buongiorno a tutti sono michele spotty direttore d'orchestra avrò il piacere di dirigere questa sera l'opera beatrice di tenda in forma da concerto con splendidi interpreti qui al festival di mattina franca al festival della valle d'itria dirigerò l'orchestra e il coro del teatro petruzzelli di bari una bellissima occasione questa sera e il 26 per sentire questa questo splendido capolavoro raramente eseguito nei teatri ma di una bellezza unica un'anticipazione dei temi verdiani è una conferma dei temi rossiniani c'è della musica francese della musica italiana una summa di del canto e vi invito a questo bellissimo evento e vi aspetto numerosi